Cominciamo con i gol, saranno gol estivi ma sempre gol sono, no? Cominciamo soprattutto con un gol, quello che ha dato la vittoria al Napoli contro il Mallorca, lo ha segnato Zuniga. Santana, parte col destro l'argentino, pallone lungo sul secondo palo, a staccare, sempre pericoloso, sempre campagnaro di testa. Antete Guzman, deviazione, Rosati, bravissimo, bravissimo l'estremo difensore del Napoli a farsi trovare pronto. Zuniga per Donadel, sta tornando Tecchera, è bravo a girare per Dossena, si fa vedere Santana, gli chiama il corridoio, Santana si inserisce, la mette! E c'è Zuniga a portare in vantaggio il Napoli, il Napoli passa al quindicesimo minuto, Kras di Santana, Zuniga fa 1-0. Grande corridoio di Dossena per Santana, dentro col mancino, hop là, di testa e Napoli in vantaggio. Santana, grande volé per Lucarelli, in area di rigore, Lucarelli, Aguate, gli dice di no, ha provato il pallonetto, Lucarelli sull'estremo portiere della nazionale israeliana e portiere del Mallorca. Il suo è, 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 la mette, poi Tecchera ed è straordinario, semplicemente straordinario Rosati, semplicemente straordinario. Non ci crede nemmeno Tecchera come abbia fatto Rosati a dirgli di no. L'occhio è questo calcio d'angolo, gran botta da fuori, palo, da parte di Marti Soler, poi De Guzman, non riesce a dare fuoco al sinistro. De Guzman dalla bandierina, calcio d'angolo già battuto, Alfaro tocca, De Guzman ancora col destro a giro, Rosati, Rosati ancora una volta a dire di no ai giocatori del Mallorca, attentissimo. Occhio Ansue, pallone sbagliato da guardare Napoli, Ansue, Rosati, ancora una volta Antonio Rosati. Guzman in area di rigore, attenzione Ansue, volè al volo di destro. Ansue, largo dall'altra parte c'è Alfaro, viene servito proprio Alfaro, entra da dare di rigore, le finte Alfaro, destro morbido, Rosati. Su Scioli Castro, grandissimo Rosati, spettacolare Rosati su Scioli Castro.